buongiorno buongiorno un giorno in diretta da caron beach questa volta c'è anche sky qua con me che fortuna e chi è che sta dentro la bambini tiziano lavoro perfetto tiziano chi vuoi prenotare venite a tiziano va bene va bene vi faccio vedere caron beach qui siamo nella parte vicino alla rotonda dove si sta molto bene c'è anche un sacco di gente c'è veramente molta gente considerando che poi sono solo le 10 del mattino e quale 10 vuol dire molto presto caron è una bellissima spiaggia con la possibilità vedete ci sono gli ombrelloni ci sono le palme sono i tuk tuk che rompono le scatole con la musica la rata che spiaggia bella sabbia soffice mare calmo prossimi giorni previsioni dicono bene cioè poi dia si alza un po il vento tutte le escursioni escono regolarmente vi ringraziamo perché siete veramente in tanti in tanti a venirci a trovare e ci fa piacere e domani ci abbiamo anche coroc domani è una bella giornata per andare a coroc e abbiamo ancora parecchi post in barca quindi se vi interessa domani c'è rock island oltre naturalmente alle ppi nella baia di panga e tutte le altre escursioni e speciale le pucche dal mare 19 18 c'è cocra dan un'altra escursione speciale una tra le più belle in assoluto e particolari per cui abbiamo veramente tante cose da potervi farvi fare venite a trovarci allo sky caffè che così vi spieghiamo intanto che venite a trovarci poi potete fare un giro qua a caron beach perché ripeto adesso siamo venuti nella parte più affollata della spiaggia che comunque ripeto affollata affollata non è diciamo che non è rimini e nemmeno riccione però insomma vedete qua c'è parecchia gente rispetto a dove siamo noi davanti alla nostra agenzia la spiaggia io vado a nuotare tutti i giorni e vi dico è praticamente deserta dove siamo noi per cui venite a trovarci se non ci sono io c'è sky se non c'è sky c'è tiziano se non c'è sky c'è tiziano e ci siamo tutti non preoccupatevi tutti i giorni dalla mattina alle 9 fino al pomeriggio alle 5 ci trovate bisogna passare in agenzia per prenotare non è cattiveria ma dobbiamo spiegarvi le cose guardare il meteo si lascia una caparra perché senza caparra non ci accettano le prenotazioni più perché qualcuno ha fatto il furbo e ci dispiace mentre caparra non si presentavano all'appuntamento e per colpa di pochi adesso le agenzie dove prenotiamo le company che organizzano i tour si obbligano a prendere una caparra altrimenti ce li mettiamo noi agenzia e sky non ci vuole rimettere i soldi per la gente che sta a letto va bene dai vi aspettiamo ciao buona giornata ciao